Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. E' cominciata la sfida tra Sampdoria e Juventus, diciannovesima di Serie A Team. Dybala, Pogba, prova il tiro Pogba, tra le braccia di Viviano. Trolla bene il pallone, scarica subito fuori per Hernanes, potrebbe anche provare il tiro Hernanes! Viviano con i pugni dice di no. Dybala, Bonucci, palla morbida per Pogba, vuole il controllo, Pogba si gira! E' il pallone in rete! La Juventus è in vantaggio! Il gol di Paul Pogba, che sblocca il risultato al diciassettesimo minuto di gioco. Juventus 1, Sampdoria 0. Non sembrava irresistibile la conclusione di Pogba. Hernanes e Dybala, parte Dybala, il cross in mezzo, pallone che attraversa tutta l'area. E poi arriva Viviano ed evita guai mettendo la palla lontana in calcio d'angolo. Secondo l'arbitro, poi Hernanes non si libera del pallone. Arriva Cassano, c'è la battuta da parte di Carbonero, pallone che termina sul fondo. Hernanes, Dybala. Dentro per Chedira, Chedira in aria, Chedira! 2-0 Juventus! Il gol di Sami Chedira, che raddoppia per i bianconeri, che si portano sul 2-0. Dopo un minuto nel corso del secondo tempo, Juventus 2, Sampdoria 0. Il secondo gol in serie a team di Sami Chedira. Cassano sul fondo, quasi, parte il traversone sul secondo palo, colpo di testa! E palla sul fondo! Poi Hernanes ancora per Pogba, nello spazio per Dybala. Dybala zona tiro, ci prova Dybala! Vola Viviano e mette il pallone in calcio d'angolo. Temere viva l'azione della Juventus. Hernanes, parte l'altro cross in mezzo, altro colpo di testa! E Morata divora solo davanti a Viviano e in posizione regolare. Ancora una volta il gol del 3-0. Cassani, Cassano, Carbonero, ancora Cassano in aria. Cassano! 2-1! La riapre Antonio Cassano! Il gol del numero 99 che rimette in partita la Sampdoria. Fernando, salta un uomo, zona tiro a Fernando! Sul fondo! Sampdoria a 10 centimetri dal 2-2. E ora ci credono e come i blucerchiati. Cassano... Ok, il cross in mezzo, Buffon! In due tempi anticipa Alejandro Rodriguez. Avanza veloce Zazza, steso da Moisander. Rosso diretto per Moisander. Cassano, ancora lui, il cross in mezzo, il colpo di testa! Sul secondo palo salva Chiellini. C'è anche Viviano. Ma non c'è più tempo, arriva il treplice fischio di Mazzolini. Per la Juventus è una vittoria importantissima.